Ci sono tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo della Virtus, Lanciano, Luca Leone, nomi di giocatori da sottoporre e già sottoposti al tecnico Roberto D'Aversa da trattare ed eventualmente convincere al trasferimento in terra frentana. La rosa che nell'ultimo campionato ha fatto sognare i playoff non sarà smantellata ma andrà fatto qualche ritocco importante, soprattutto per coprire i vuoti lasciati da quei giocatori che torneranno alle società di appartenenza per fine prestito. Tra gli obiettivi principali ci sarà quello di ridisegnare il reparto avanzato che negli ultimi due anni è quello che ha fatto più fatica. Tanto l'impegno, il coraggio ed anche il potenziale mostrato da Falcinelli. Pochi i nove gol realizzati nelle 72 gare giocate. Alla Virtus piacciono sulle mani Ducará e Abu Diop, il primo classe 91 e di proprietà del Catania, squadra con cui ha collezionato anche qualche apparizione in Serie A. Da gennaio ha militato nella Juve Stabia realizzando sei reti in 20 partite, non poche se si considera che giocava in una squadra che a fine girone d'andata era praticamente già retrocessa. E' andata meno bene a Diop, classe 93 di proprietà del Torino, che dopo aver recuperato da un brutto infortunio è andato in prestito al Crotone, dove ha giocato poco e non ha mai segnato, cosa che invece gli era riuscita con grande continuità nel settore giovanile Granata e del Genoa. In entrambi i casi si tratta di due punte centrali, forti fisicamente. C'è poi Alessandro Gatto, attaccante ventenne, che la Virtus sta provando ad ottenere in prestito dall'Ellas Verona. Dopo tanta sfortuna, la stagione nella squadra primavera scaligera lo ha restituito al calcio che conta ed ora è pronto ad un'esperienza tra la serie cadetta. Attaccante veloce e con ottima tecnica individuale, a favorire la trattativa, gli ottimi rapporti con il club giallo-blu. E poi occhio al diciottenne Mamadou Tunkara, spagnolo cresciuto nel Barcellona ma ora di proprietà della Lazio, con cui esordito in Serie A nell'ultima gara di campionato contro il Bologna. Per quanto riguarda gli altri giocatori, strada chiusa per Buckel. Il suo destino è tra Siena e Verona, molto in salita quella per Germano, al quale la Provercelli vuole assegnare una maglia alla titolare. Più passano i giorni, più diventa complicato il ritorno in rosso-nero del portiere Sepe. Il sostituto però è già pronto. Si tratta di Branescu, classe 94, per il quale la Virtus ha rinnovato la comproprietà con la Juve.